Questo video mostra dei prodotti creati con l'aiuto di Vlad e Niki. Coloriamo le automobili! Iniziamo! Sembra bella! La prossima! Coloriamo la testa! Mi piace questa macchina! La 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 la! Wow! Vlad, guarda cosa ho! Wow! Coloriamo! Wow! È il mio turno! Wow! Bello! Ok! Che cos'è? Che cos'è? Stiamo dipingendo le macchinine! Ho un'idea migliore! Andiamo! Juhu! Juhu! Mamma, svegliati! Oh! Juhu! Fico! Andiamo! gelato si ah 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 bello ah ah oh wow ah 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 que era per me ah 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 Sì, è bella Mi piace la pizza Oh yeah Ok Ok No Ehi mamma Non riesco È pesante No Genitori, visitate il sito vladenniki.com Ci sono delle belle magliette, coperte, maschere e borracce Siete come Vlad e Niki, siate alla moda Wow, bellissima Wow, fantastica Questo video mostra dei prodotti creati con l'aiuto di Vlad e Niki